abbiamo visto nei video precedente di questa playlist sugli etf solo etf singoli o alcuni portafogli che potevano essere ideali per dei portafogli perenni ma se dovessimo darci delle regole per creare un portafoglio di soli etf senza azioni quali step dovremmo seguire lo scopriamo nel video di oggi che arriva subito dopo la sigla ciao a tutti boys and girls e bentornati sul canale di pasquale questo è il risparmio il canale del vostro amichevole risparmiatore ed investitore della porta accanto quella lì oggi come anticipavo andiamo a vedere se esistono metodi regole e metodologie per creare un portafoglio etf partendo completamente da zero che possono magari essere applicati a tutti senza distinzione alcuna di obiettivi di riferimenti di preferenze ovviamente devo ricordare che queste sono solo mie considerazioni personali e non sono assolutamente consigli finanziari ma io sono quello che vi dà lo start e voi dovete fare la corsa studiate sempre approfondite sempre non fermatevi mai a uno youtuber non esiste un unico manuale per creare un portafoglio etf diciamoci alla verità quello che dovessi considerare che gli etf sono strumenti per seguire una determinata strategia di investimento in questa prima parte in questo primo video ti voglio dare le informazioni in generale per chi sia una persona magari alle prime armi ma di prossimo invece andiamo a vedere un po un modo più complesso diciamo molto più customizzabile per andare a personalizzare la creazione del proprio portafoglio di soli etf quando si parla di creazione di portafoglio in generale in questo particolare dtf le prime due considerazioni da fare sono secondo me importantissime ma lo sono anche per qualsiasi esperto del settore e sono relative prima di tutto a capire qual è l'obiettivo di investimento e poi quale sia il grado di percezione di rischio che ogni persona è disposta ad affrontare infatti bisogna capire se i soldi in questo portafoglio devono che ne so debbono magari solo coprire inflazione o generare rendite future o magari essere solo la pensione futura o se invece si cerca aumentare il proprio capitale a più non posso e una volta che questo è stabilito cosa si è disposti ad affrontare in termini ad esempio di volatilità di drawdown di perdita parziale o magari anche completa del proprio capitale tutte queste considerazioni devono anche tenere conto che il rischio può essere ridotto calmirato ma mai completamente eliminato e che vi dice altrimenti è un fuffaguru quando queste due considerazioni sono state fatte sono state capite sono state digerite e insomma sono state pianificate a mio parere se si crea un portafoglio di solo etf non bisogna mai abbracciare un singolo strumento mai un singolo etf perché perché seppure sia vero che gli etf siano un paniere diversificato di strumenti non sono inermi a rischio pensate un po' se voi capite il mercato russo e avete diversificato un etf che sia solo russo per voi quello un etf è un paniere di tante aziende perché rischiare tanto no non si rischia niente invece in questa settimana aveste perso un 30 per cento non bisogna mai fare valutazioni troppo approssimative per un eccesso di propria sicurezza personale diversificazione e asset allocation potrebbero non garantire la completa protezione dalla disco del mercato anzi non lo fanno quasi mai però comunque possono mitigarla e di non poco gli investitori che analizzano asset class prima di investirvi devono anche valorizzare la loro esposizione complessiva al mercato in questo modo hanno una visione di insieme sia del proprio portafoglio ma anche di rischi assunti fondamentale per raggiungere tutti i propri obiettivi di vita di investimento che vi si sono prefissati a corrollare tutto manca un altro tassello che è l'orizzonte temporale anche questo un tassello importantissimo investire su un asset ad alto rischio per tempi brevissimi ad esempio potrebbe cancellare il patrimonio fallo per lunghissimi periodi su asset che a malapena coprono l'infrazione alla fine è come se non si facesse niente e anzi si va ad erodere il proprio capitale falle le giuste premesse fondamentale per poter anche pianificare un portafoglio un 25enne ai primi investimenti potrebbe permettersi di investire in un modo molto più aggressivo poiché dispone di molto più tempo per recuperare le perdite che potrebbero che potrebbe subire a causa delle forti flessioni di prezzi un investitore prossimo alla pensione senza fare nome e cognomi potrebbe ad esempio optare per un approccio più prudente errore madornale è sicuramente quello di partire da etf che voglio avere in portafoglio e basta saltando le valutazioni dei tre step che ho appena citato alcuni investitori ad esempio sono amanti del rischio altri invece non sopportano l'idea di perdere neanche una minima parte non solo dei propri guadagni ma anche del proprio capitale pertanto adottano un approccio più cauto ma devi saperlo prima di scegliere i tuoi etf per il tuo portafoglio non dopo in linea di massima però scegliere l'investimento più adatto a noi non è necessariamente complesso e complicato con un mix diversificato di asset classe ed esposizioni è una corretta valutazione del rischio complessivo del portafoglio è possibile anche costruire un portafoglio orientato a un obiettivo prefissato senza essere dei mega esperti si vuole costruire un portafoglio bilanciato uno totalmente azionario uno totalmente obbligazionario cosa bisogna fare bisogna capirlo prima una volta che si è delineata la strategia si passa poi alla selezione dei fondi specifici che permettono di raggiungere il nostro obiettivo bisogna quindi pianificare seguire un processo strutturato che parta dagli obiettivi di investimento e che arrivi alla costruzione del portafoglio passando per le varie considerazioni che abbiamo fatto prima poi di seguito si possono anche andare ad elencare altre cose essenziali per seguire la costruzione del proprio portafoglio che va a limare approfondire un po più di un po più in particolarità come lascia come scegliere gli etf per il nostro portafoglio facciamo un esempio scegliamo un portafoglio che sia 40% azionario e più che andiamo a scegliere sul borsa italiana tramite ad esempio dei siti come just etf un etf che vada pronto a seguire quel mercato ma ce ne sono tantissimi per cui dobbiamo andare anche valutare diversi etf che vanno a seguire lo stesso indice e valutare in base al costo all'affidabilità del provider alla liquidità al numero di transazioni giornaliere e per fare ciò è utile creare un processo di selezione personale magari mettendosi tutti quegli etf uno di fianco all'altro e andandoli a comparare un ulteriore step successivo alla creazione del portafoglio e monitorarlo ogni volta per vedere che le scelte fatte siano corrette e che il portafoglio si comporti come abbiamo prefissato questo perché come si dice sempre le performance passate non sono un indizio per capire quali saranno le performance future bisogna sì credere nella propria strategia di come la si è costruita di come la si è implementata ma non bisogna cadere nella cociutaggio e nella saccenza e dobbiamo invece cercare di capire se abbiamo commesso errori di valutazione di costruzione del portafoglio e nell'accortezza magari essere camaleontici e andare ad optare per le opportune variazioni oltretutto dopo un certo lasso di tempo comincia a entrare in gioco il cosiddetto ribilanciamento nel tempo il peso dei diversi fondi tenderà a discostarsi da quello che è ideale per la performance di portafoglio che c'eravamo preposti per questo è importante capire come e quando andare a ribilanciare il portafoglio operando magari con delle scelte localizzate nell'ambito temporale magari ogni sei mesi ogni anno che magari cambi anche momentaneamente la strategia e per cogliere magari a volte anche delle opportunità che si dovessero presentare in un mercato particolare inoltre bisogna anche stabilire nel caso in cui si volesse ribilanciare il portafoglio come lo si fa si va ad acquistare nuove quote di quei asset che sono scesi come percentuale nel portafoglio magari facendo così però bisogna tenere una certa liquidità parcheggiata oppure vendere le quote in eccesso di quei fondi che sono cresciuti però in quel caso andare a pagare il capital gain le tasse sul capital gain o semplicemente lasciare che il tempo faccia il suo corso e che magari nel lungo periodo qualcosa si possa ripareggiare per questo dicevo prima che è un processo non facile ma non impossibile che con un pochettino di esperienza studio pazienza si può fare ma che non fa per tutti per cui una prima soluzione potrebbe essere ad esempio affidarsi alla costazione di un portafoglio etf usando un provider esterno in italia il più famoso è sicuramente money farm per chi non lo conoscesse money farm è un servizio che permette ai clienti di investire i propri risparmi online in uno dei portafogli di investimento già costruiti da parte del gruppo selezionandoli fra quelli che vengono proposti in base alle proprie esigenze che vengono date tramite dopo la compilazione ecco di un questionario questi portafogli sono pensati per ottenere per far ottenere a chi ci investe dei rendimenti di medio lungo periodo e non nel brevissimo e ogni portafoglio è strutturato in base al risultato del test i prodotti di money farm sono pensati in particolare per poter offrire rendimenti di medio e lungo periodo e per cui non di breve e poi ogni portafoglio è strutturato al proprio interno in modo da comprendere differenti asset class appunto che vadano a ribilanciarsi nel tempo come azioni obbligazioni materie prime o magari anche riserve valutarie e per diversificazione geografica questi portafogli sono ad esempio monitorati costantemente da un team di esperti che compongono il cosiddetto comitato di investimenti che fanno tutto quello che ho menzionato finora io per conto del cliente per cui vanno a creare strategie di investimento basate sulla diversificazione che sia essa come dicevamo prima geografica temporale o fra titoli in base a quello che la percezione del cliente a questo viene aggiunto anche che il team verifica costantemente l'andamento del piano di investimento rispetto agli obiettivi che il cliente si è prefissato e per cui vanno a operare gli eventuali ribilanciamenti in caso di variazioni di mercato per mantenere costante soprattutto una cosa che il livello di rischio e che deve essere mantenuto appunto per legge perché chi ha fatto la richiesta ha compilato un questionario a seconda dell'ammontare dell'investimento si passa da un massimo di 14 etf al minimo di 7 per portafogli per esempio al di sotto dei 50 mila euro di valore che vengono spalmati su 7 diversi portafogli che vanno dal numero 1 quello che teoricamente è meno rischioso al numero 7 che è quello con una base azionaria maggiore per cui molto più volatile ovviamente è come in pizzeria se ordini una pizza il pizzaiolo non è che ti fa pagare solo la farina l'acqua e l'olio e il lievito ma anche il servizio per cui l'impasto la cottura e così via e così moneyfram ti fa pagare anche il suo servizio applica delle tariffe semplici abbastanza complessibili e basse diciamo che siamo a un 1.28 per cento che ovviamente bisogna considerare nel caso si optasse per questa opzione nel caso tu voglia utilizzare moneyfram comunque ti lascio un link qui sotto che è un link affiliato in descrizione se poi vuoi risparmiare anche questi costi puoi fare tranquillamente per conto tuo facendo le tue valutazioni pianificando le tue strategie e infatti venerdì prossimo nella seconda parte del video andiamo a parlare di questo in maniera pratica andiamo a applicare i concetti iniziali di questo video quelli che ti ho illustrato oggi nel caso tu voglia fare tutto da zero però per conto tuo tipo tutorial per cui ti aspetto venerdì prossimo per la seconda parte di questa serie spero che questo contenuto sia stato di tuo gradimento se così fosse qual è questo sì ti chiedo di lasciare un pollice in su per la crittima di youtube e un commento per farmi capire cosa ne pensi ti ricordo che se tu valutassi l'opzione moneyfram ovviamente come detto prima ti lascio il link affiliato qui sotto in descrizione a te non costa nulla ma a me permette di supportare il canale e sostenermi nella creazione di nuovi contenuti nella sezione commenti lasciami anche degli spunti tuoi di riflessione da condividere con tutta la community e se poi sei nuovo sul canale ovviamente ti chiedo di iscriversi e di cliccare la campanella delle notifiche così non ti perderai nessun contenuto successivo bene anche per oggi è tutto è venerdì ultimo video della settimana per cui ti auguro un buon weekend e noi ci vediamo lunedì prossimo con una nuova puntata di buonanotte mercati ciao